Buona giornata. Diciamo che molto spesso le preoccupazioni ci attanagliano. Le preoccupazioni vengono proprio a invadere il nostro stato d'animo, i nostri umori, ma sono preoccupazioni. A volte tante preoccupazioni non accadono, siamo noi che le abbiamo create. Questo non significa non dare peso a quello che ci succede o alle sensazioni o ciò che noi saremo chiamati a vivere, però diamo il peso giusto alle nostre preoccupazioni. Forse una maniera più bella e anche più interessante nel trovare il giusto peso è anche quella di saperle condividere. Perché? Perché nella condivisione sicuramente si vengono a tratteggiare certi lineamenti o certi ambiti per cui forse quel peso che gli do, ecco, non è così pesante o perlomeno non è così preoccupante. Allora che ci sia questo coraggio oggi nel condividere le preoccupazioni, ma soprattutto nel trovare una modalità per affrontarle al meglio. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata. Grazie a tutti.